Ci sarà la terza stagione dei Medici quando va in onda, anticipazioni e nuovo cast la storia dei Medici non è ancora terminata. La fiction Rai andrà in onda nell'autunno 2019 con la terza stagione. I nuovi episodi saranno incentrati sulla vita adulta di Lorenzo il Magnifico, interpretato ancora una volta da Daniel Sharman. Le riprese delle nuove puntate si stanno tenendo in questi mesi tra la Toscana e il Lazio e andranno avanti fino al prossimo dicembre. Oltre a Sharman sono confermati nel cast altri protagonisti della seconda stagione, come la moglie Clarice Orsini, interpretata da Sinove Carsln, e l'amante Lucrezia Donati, che ha il volto di Alessandra Mastronardi. Non ci saranno i personaggi morti nella seconda stagione ovvero Bradley James Giuliano De Medici, Matteo Martari Francesco Pazzi, Shombini Jacopo Pazzi. Che sono i nuovi attori dei Medici 3? Nel cast dei Medici 3 non mancheranno attori italiani. Tra questi Francesco Montanari, il libanese di romanzo criminale, che indosserà i panni di Girolamo Savonarola, il religioso che prenderà il potere a Firenze a discapito dei Medici. Ci sarà Giorgio Marchesi, attualmente impegnato in TV con l'Alliela 2, al quale è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, altro avversario di Lorenzo il Magnifico. Spazio poi a Marco Palvetti, il celebre Salvatore Conte di Gomorra, che sarà Capitan Guiscardi. E a Raniero Monaco di Lapio, ex del Grande Fratello oggi attore impegnato, al quale è stato affidato il compito di interpretare il personaggio di Vanni. Mentre Michele Morrone, ex di Sirene e di Ballando con le Stelle, sarà un pirata turco. E non va dimenticato Neri Marco Re, che avrà la parte di Papa Innocenzo VIII.A post shared by Francesco Montanari Chiocciola Francesco sottolineatura Montanari sottolineatura official on Oct 21, 2018 ed 539 amp. Signori vi presento il capitano di una nave pirata turca. Sporco al punto giusto. Cancelletto I Medici 3 Season Cancelletto Roma Cancelletto Firenze Cancelletto Passato Cancelletto Derti Cancelletto Pirates Cancelletto War Cancelletto Si Cancelletto Ocean Cancelletto Lava Cancelletto New Project Cancelletto Exited Cancelletto Nevergive Upa Post Shared by Michele Morrone Chiocciola I am Michele Morrone Official on Sep 19, 2018 ed 1200 amp. Tra gli attori stranieri i nuovi volti sono quelli di Jack Roth figlio del più famoso Tim Roth, Louise Patrick, Jack Dudman e William Franklin Miller, considerato qualche anno fa il bambino più bello del mondo. Le prime anticipazioni dei Medici 3 I Medici 3 partirà dalla congiura dei pazzi per raccontare la vita più adulta di Lorenzo il Magnifico. E i due anni di guerra contro Roma e contro Papa Sisto IV Raul Bova, che segnano la vita dei Medici. Ma si parlerà pure dei successi di Lorenzo in politica estera, vittorie che lo hanno reso una delle figure cardine della storia moderna italiana. Inoltre, ancora non è stata annunciata ma già si parla di un'ipotetica quarta stagione con protagonista Caterina de' Medici, bisnipote di Lorenzo.